In un locale di Piedimonte Etneo si è tenuto il tradizionale passaggio della campana del Rotani Club Riviera Ionico Etnea, il dottore Francesco Caruso è il nuovo presidente del club. Subentrato al presidente uscente Paolo Bonaccorso, quest'ultimo nel tracciare un bilancio del suo anno di presidenza, ha parlato delle iniziative portate avanti all'insegna della sussidarietà, dell'interlocuzione con i comuni, con le categorie produttive e con chi ricopre ruoli che possono incidere sulla vita sociale. La presidenza del Rotari ha detto che è un'occasione di servizio, non è una questione di leadership, è un momento di maturazione del socio che ha moto di riflettere su se stesso e sul contesto in cui si vive. Tra i progetti realizzati da Bonaccorso, la donazione di stazioni meteo ai comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana per creare insieme al servizio di protezione civile di Giarre una rete di monitoraggio delle condizioni meteo del territorio e la donazione al comune di Giarre di alcuni alberelli di arancio amaro per sostituire nelle aiguole del centro storico le piante secche o danneggiate dal maltempo. Il nuovo presidente Caruso ha indicato alcuni temi a cui tiene in particolare e a cui intende spendersi. La violenza di genere, la realizzazione di uno spazio neutro, servizio che garantisce il diritto di visita e di relazione tra i minori e i genitori non conviventi. Inoltre si valuterà l'attuazione di alcuni progetti distrettuali.